Ciao ragazzi, un video brevissimo per spiegarvi un avverbio che io e tantissimi italiani usiamo moltissimo forse anche quando non è necessario utilizzarlo sto parlando di praticamente praticamente qui, praticamente là, praticamente su, praticamente giù l'avrete sentito dire tantissime volte, anche in maniera, come dicevo, piuttosto spropositata praticamente è un avverbio che ha due significati il primo significato è in pratica, in modo pratico ad esempio quando dico affrontare praticamente un problema affrontare praticamente una situazione difficile che significa? significa affrontare in modo pratico, in maniera pratica, una situazione, un problema quindi praticamente in questo senso come secondo significato praticamente vuol dire in sostanza, alla fine cioè in sostanza è successo ciò vi faccio un esempio immaginiamo che immaginiamo di misurarci un vestito un vestito bianco e poi un vestito nero e poi chiediamo il parere a due amici diversi il primo ci dice ti sta meglio il vestito bianco il secondo ci dice ti sta peggio il vestito nero e io cosa dico? praticamente avete detto la stessa cosa hanno usato due frasi diverse, due opinioni diverse però praticamente hanno detto la stessa cosa cioè alla fine, in sostanza, hanno detto la stessa identica cosa ecco come si usa praticamente spero che il video vi sia stato utile fate tanti esercizi sul sito www.impariamoitaliano.com mi raccomando, iscrivetevi al canale se vi interessa, naturalmente non per fare un piacere a me mettete mi piace alla pagina facebook di Sgrammaticando fatemi tante domande, tante richieste cercherò al più presto di accontentare tutti voi al prossimo video ciao Grazie a tutti.